partiamo dai va bene faccio tra le persone allora quello che abbiamo dormito tutti e siamo tutti belli svegli e ok eccoci qua è un modo per accedere a questo tipo di tecnologie in modo molto 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 facile molto semplice anche guidati dalla community che c'è dietro strumenti per creare i simboli all'interno degli schemi e per creare se non capite qualche termine perché per noi ormai come l'acqua e come il pane sono persone che finalmente conoscono le cose le fanno le fanno anche per passione e quando c'è la passione di fare le cose ovviamente c'è anche tanta energia positiva il percorso in maniera un po particolare perché appunto lo facciamo in streaming metterci d'accordo su di cosa però parliamo quando non ti diciamo design e vi do un abbraccio grosso 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 virtuale molto bene molto bene eccezionale eccezionalmente eccezionale 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 eccezionale